DEMON SLAYER Questo è appunto il secondo Blu-ray Perché io adoro la versione Blu-ray E andremo a spacchettarlo insieme con voi Se cercate indumenti nerd o a tema anime e videogiochi Andate su Pampling e utilizzate il mio codice sconto ROTOLIN Vi dà diritto al 20% di sconto su tutto il catalogo Vi ricordo come sempre di mettere un bel mi piace E così mi fate contento E di commentare sotto per dire la vostra e creare una discussione Venite all'Otaco Hero Fometteria Vi aspettiamo Chiunque ha acquistato il box durante l'evento di lancio della fumetteria Ha ricevuto la firma mia e di Mosè sul cofavento O su un disegno disegnato da Inarte Bax E finalmente abbiamo questa chicca tra le mani Lo apro per la prima volta con voi In assoluta esclusiva Ecco qua Finalmente io sono uno che aspetta di avere tutti gli episodi a disposizione Prima di poter usufruire dell'opera E finalmente in questa seconda tranche ci sono anche io per il mio personaggio Rui per chi non lo sapesse ancora Spoiler Andiamo subito ad aprirlo Allora vediamo un po' Abbiamo questa etichetta che Ahimè manca il numero della limited Perché rimane limited ma manca la numerazione Dell'uscita del pepe cofanetto Abbiamo la solita scocca di cartone con il titolo E il numero 2 per segnalare il secondo cofanetto E l'artwork davanti alla copertina è veramente veramente molto bello Andiamo ad aprirlo ragazzi Bellissima sempre la divisione a libricino Andiamo ad aprire il lato sinistro che conterrà il primo CD Con i protagonisti in questo caso i primi tre quindi Nosuke, Zenitsu e Tanjiro Abbiamo l'intervista ad Akira Matsushima Che è il carattere a design Vi troverete all'interno tante belle informazioni e tante chicche importanti Insieme a nuovi disegni dei personaggi che arrivano appunto in questo secondo cofanetto Guardate che belli Questi sono i pilastri se non sbaglio Sì sono i pilastri Davvero molto molto bello ragazzi Oh e guardate un po' chi c'è qui A sorpresa non me l'aspettavo ed ecco il mio bellissimo lui Guardate qui guardate quando si incazza che bello che è La sorella maggiore E tutta la sua famiglia Davvero molto molto belli Bellini Chiudiamolo Mettiamolo qui Andiamo all'apertura del cofanetto E vediamo insieme i disegni e gli artwork di questi CD Allora Come dicevo prima abbiamo Tanjiro Zenitsu Inosuke Abbiamo un Tanjiro super incavolato Bellissimo che è lo stesso che c'è sulla copertina Mamma mia guardate che bello Sono disegni bellissimi La scelta del bianco e nero La trovo una scelta coraggiosa ma davvero davvero molto bella Azzeccata Molto azzeccata Che richiama appunto il colore delle scritte all'inizio Quindi se io adesso lo apro così Guardate che bello Guardate che bello effetto Spaventoso Davvero molto molto bello Bene ragazzi Vi consiglio vivamente di recuperare questa collezione Io vi saluto su questo bellissimo disegno E vi saluto come farebbe lui Quindi Vedete di comprare il cofanetto Altrimenti Vi ucciderò tutti E anche per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere con un bel mi piace e un commento E non dimenticatevi di condividerlo Vi ricordo inoltre di seguire tutti i miei social Per rimanere aggiornati sulle nuove live e i nuovi video Alla prossima!